Benvenuti spettatori di Le Fonti TV a una nuova puntata di Agora Marketing, la trasmissione che analizza la panoramica, le strategie, i trend del settore del marketing e della comunicazione. Oggi lo faremo in compagnia dell'ospite che ci ha raggiunto qui nei nostri studi, ovvero Andrea Di Fonzo, Chief Media Officer di Publicis Group e CEO di Publicis Media. Benvenuto e grazie naturalmente per essere qui con noi. Buongiorno a lei. Ecco, dottor Di Fonzo, io inizierei proprio da una panoramica generale perché il mondo del marketing e della comunicazione si muovono come del resto tutti gli altri settori in uno scenario molto complesso, quello che stiamo affrontando anche dal punto di vista economico tra crisi appunto finanziaria, economica, crisi energetica. Quindi le chiedo innanzitutto se diciamo c'è una riduzione del budget delle aziende destinato alla comunicazione e al marketing o se invece queste attività vengono ritenute così importanti, fondamentali, che le aziende in realtà non stanno molto a guardare il portafoglio quando si tratta appunto di comunicare se stesse i propri valori. Le aziende sono attente al portafoglio sempre. Quello che stiamo vivendo è proprio il momento del passaggio in questo momento. Abbiamo avuto la prima metà del 2022 che tutto sommato è stato un anno positivo dal punto di vista del marketing e della comunicazione però gli effetti appunto del rendere più complessa e complicata la situazione economica, gli effetti energetici, l'aspetto dell'inflazione ci porterà probabilmente, noi stiamo cominciando a disegnare una riduzione nella parte finale dell'anno, quindi il Q4 del 2022 e poi l'impatto nel 2023, quindi stiamo prevedendo una contrazione in questo momento degli investimenti. Una contrazione che potrà avere una velocità differenti, di velocità differenti settore per settore perché verranno diciamo colpiti i settori merceologici in maniera molto differente quindi tra beni ciclici, anticiclici diciamo che è un altro elemento che è anche in comunicazione perché come verrà impattata una possibile recessione quindi consumi anche i piani di comunicazione avranno questo tipo di impatto. La portata di questo rallentamento degli investimenti credo che lo vediamo anche nell'economia reale c'è molta volatilità e altrettanto vedremo probabilmente delle oscillazioni molto rapide all'interno dei mesi durante l'anno non dimentichiamoci che noi abbiamo ancora un anno il 2022 che ha un'anomalia dal punto di vista della comunicazione che non c'è mai stata abbiamo i mondiali a fine anno, siamo abituati ad averli d'estate e per la prima volta li avremo a fine anno un evento così importante. E quello ovviamente magari qualcosa sposterà a livello comunicativo però come ha detto lei insomma ci aspetta un 2023 particolarmente complesso, noi lo diciamo anche durante le nostre dirette dedicati appunto all'analisi economica dei mercati, l'onda lunga dell'inflazione di tutte le problematiche in realtà non l'abbiamo ancora vista fino in fondo, la dovremo vedere e quindi ecco tutto questo impatterà anche sul mondo appunto del marketing e della comunicazione. Diciamo che per capire il vostro settore la parola chiave inevitabilmente è digitalizzazione. Abbiamo visto soprattutto durante la pandemia piattaforme come Amazon, come TikTok che hanno insomma visto gli utenti utilizzare in maniera progressiva e quindi ecco le chiedo se appunto c'è un'accelerazione di questo passaggio tra i media da offline a online oppure c'è una compenetrazione tra i media tradizionali e i nuovi media, che cosa sta accadendo? Ormai devo dire che sulla parola digitalizzazione è acquisita, cioè è un dato di fatto, quello che ha portato la pandemia è un'accelerazione su alcune modalità di digitalizzazione, l'e-commerce in primis, infatti ha citato subito Amazon come primo esempio, però ormai quello che vediamo il mezzo digitale è il primo mezzo per investimenti overall. Quello che c'è, c'è una compenetrazione, è anche veramente difficile ormai dire cosa è digitale e cosa non è digitale, pensate tutta la parte delle connected TV, dell'addressable TV, il cambio della legge, il cambio del segnale, tutta una serie di elementi, la penetrazione delle televisioni connesse, quello è offline, è online, non vale più neanche la pena forse differenziale, lo pensate a Netflix o a Disney, che arriveranno con l'advertising all'interno delle loro piattaforme, quindi che si avvicinano al mondo tradizionale dell'advertising, ma portando in dote le loro caratteristiche di essere televisioni connesse, quindi l'utilizzo dei dati e quant'altro, quindi ormai lo vediamo come non è più un trend, è un qualcosa di consolidato, è un qualcosa dove non è più neanche possibile fare questa differenziazione tra digitale e offline, oggi anche i mezzi che possiamo considerare più offline, passatemi il termine come magari la stampa o la televisione tradizionale, la televisione lineare, vengono pianificate, vengono analizzate sulla base dei dati, i dati sono digitali e quindi la modalità di interazione diventa a sua volta digitale. Quindi insomma la cross-medialità è un dato di fatto ormai acquisito, non si può neanche parlare di una nuova tendenza, ma di un qualcosa ormai di consolidato. È un dato certo. È un dato certo, assolutamente. Ecco, le chiedo invece se possiamo parlare altrettanto di dato certo e non di tendenza per quanto riguarda la nuova modalità anche di comunicazione e di utilizzo di marketing da parte delle aziende associate ai valori e a determinati valori che caratterizzano questo momento storico, mi riferisco all'ambiente, mi riferisco alla sostenibilità, mi riferisco al gender gap. Ecco, questo connubio, diciamo, tra modalità di narrazione di se stessi e dei propri valori è così forte, così importante? Oggi è un asset imprescindibile nella comunicazione. Noi stiamo portando avanti un approccio che è chiamato di conscious advertising, quindi sì fare comunicazione, ma anche nel fare advertising, pubblicità, avere la consapevolezza dei valori, valori di diversity, per cui vado a interagire con community online, influencer, a prescindere da quelle che sono i propri orientamenti politici e sessuali o quant'altro. L'attenzione all'ambiente, c'è una selezione spietata da parte del consumatore, dei brand che non pongono attenzione, che non hanno un'agenda ambientale. L'Italia è uno dei paesi più avanti sulle B Corporation e quindi diventa veramente un elemento portante della comunicazione che non c'entra niente col greenwashing, con darsi una spennellata per sembrare un pochettino tutti più buoni per il pianeta, ma di avere valori reali, valori concreti nella comunicazione, nei prodotti, nel modo di produrre, nel modo di gestire i propri dipendenti, l'attenzione sociale e questi elementi oggi sono di parte fondante. Le aziende vengono selezionate e, come dire, promosse o bocciate non solo sulla prodotto, sul prezzo che hanno, ma sui valori che portano. I valori devono diventare elemento anche di comunicazione e vengono espressi. Sono un unicum nell'esperienza con il cliente finale. Certo, abbiamo visto quanto sia importante. Lei ha citato la questione ambientale anche per il Giova Beach Party. Che cosa è successo, insomma, proprio a livello comunicativo? Un artista a tutto tondo come Giovanotti che è stato investito appunto poi da questa polemica. Quindi grandissima attenzione sul tema dell'ambiente. Ecco, ho citato Giovanotti, che è appunto un nome molto conosciuto a livello musicale italiano internazionale, ecco, per, diciamo, toccare proprio il tema del personal branding. Diciamo che in un futuro, ma anche già nel presente, ognuno diventerà un po' l'azienda di se stesso. Ecco. E ci sono poi anche delle figure che già lo stanno facendo, gli influencer, che soprattutto, insomma, nel periodo pandemico e post-pandemico hanno acquisito sempre più potere e consapevolezza. Ecco, le aziende, quanto si rifanno all'utilizzo della figura degli influencer per promuovere la propria narrazione, per avere uno storytelling ancora più convincente grazie al loro aiuto? Credo che siamo a una fase 2 degli influencer. Prima c'è stata la grande sbornia dei social, tutti attivavano influencer per fare delle campagne specifiche, anche un po' usegetta come iniziative. Oggi i brand tendono più, e gli influencer stessi cercano di legarsi in maniera continuativa al brand, un po' per il tema anche di prima, di credibilità, di equity, di attenzione sociale. Perché diventa un elemento di trust, un elemento di credibilità verso il grande pubblico. Quindi c'è questo connubio tra brand da una parte, gli influencer, che devono trovare un punto di contro, non solo perché quell'influencer o quel brand hanno un obiettivo comune di promuovere un prodotto, ma matchano i propri valori, incastrano i propri valori. E c'è un secondo elemento dove, lei diceva, siamo un po' tutti brand di noi stessi, è una cosa che le aziende hanno capito molto bene, e oggi uno dei temi centrali è quello di lavorare con gli amministratori delegati, i key people delle aziende, perché si facciano portatori di valori dell'azienda che rappresentano, e diventano loro stessi elementi di comunicazione. Ci sono esempi in Italia, il CEO di Snam, per esempio, o di altre grandi aziende, che sono, diventano loro stessi portatori del valore dell'azienda che rappresentano, di un punto di vista, un punto di vista che spesso non è il prodotto in quanto tale, ma i valori che quell'azienda vuole incarnare, e quindi diventano oggetto di comunicazione. Noi abbiamo, lavoriamo con molti amministratori delegati e top manager, proprio sull'attività di CEO branding, di posizionamento e diventare racconto, diventare contenuto. Certo, perché io so addirittura appunto delle aziende che organizzano al loro interno corsi proprio di comunicazione, non solo al top level, a livello di CEO, ma anche tra i dipendenti, perché appunto quando ad esempio un commerciale o un dipendente si interfaccia con l'esterno, porta il valore anche dell'azienda, e quindi in realtà non sta comunicando solo se stesso, ma sta comunicando tutto il gruppo che rappresenta, e quindi deve sapere anche utilizzare insomma delle strategie, avere una consapevolezza ecco di tutti i meccanismi della comunicazione. Questo è lo scenario diciamo attuale, insomma l'abbiamo analizzato nelle varie sfaccettature, parliamo invece di futuro, ecco. Qual è lo scenario che prevede? Abbiamo già insomma un po' parlato di tendenze per quanto riguarda il 2023, ma soprattutto quali sono diciamo le skills che le aziende devono possedere per continuare ad avere successo nel mondo della comunicazione del futuro? Se consideriamo che noi stiamo andando verso un'economia, fa paura la parola a dirlo, ma con una recessione molto probabile, se non già conclamato, comunque una situazione economica molto complessa, appunto, pressioni inflattive, costo del denaro, costo dell'energia, noi vivremo una situazione dove le aziende avranno una fortissima tensione e un fortissimo stress sul risultato, quindi che ogni investimento che fanno venga misurato e che porti un risultato diretto e molto probabilmente di short term, perché nelle momenti appunto di crisi il ritorno immediato è un'esigenza della maggior parte dei brand, quindi ci aspettiamo attività di comunicazione e di marketing molto mirate alla performance, alla ricaduta immediata degli investimenti e quindi competenze all'interno o che verranno a chiedere alle aziende, ai propri consulenti, ai gruppi di comunicazione, alla società di consulenza nel impostare tutte le attività perché siano estremamente misurabili e che diano direttamente il risultato e di committarsi al risultato. Questo sarà l'elemento fondamentale, qualsiasi iniziativa di marketing, influencer, campagne di advertising, televisive, digitali, qualunque esse siano, committate a un risultato, a un elemento tangibile. E qui si lega al secondo elemento che le aziende oggi sono o quantomeno devono puntare a essere, non sono, sono un termine, vorrebbero essere ma non lo sono ancora, omnicanale. Quindi per noi che siamo professionisti da una parte ma consumatori due secondi dopo quando facciamo la spesa, compriamo a prescindere da quello che è il canale di distribuzione e di vendita. Io ho l'interazione con i brand che uso, con i miei prodotti di riferimento fisicamente, digitalmente e qui anche la necessità di avere competenze completamente diverse. Quindi competenze che integrino competenze di distribuzione tradizionale, di e-commerce, di marketing totalmente differente, di misurazione di questi risultati. Competenze che possono essere esterne, quindi con consulenti, o addirittura anche interne all'azienda. Moltiplicare insomma i canali per moltiplicare le possibilità di vendita alla fine, quindi di ritorno economico, come abbiamo detto short term. Short term. Esatto, non si può proprio pensare ormai insomma a lungo periodo, ma bisogna concentrarsi sui risultati immediati e poi passo passo si vedrà, anche perché appunto abbiamo un evento o politico, o di politica internazionale, o un dato macroeconomico che sconvolge lo scenario praticamente ogni settimana, quindi pensare nel lungo termine diventa complicato se non impossibile. Ecco, dottor Difonzo, noi abbiamo fatto una panoramica appunto generale, ora passiamo al particolare, ovvero alle soluzioni e alle strategie che state elaborando voi di Publicis Group in questo momento. Noi stiamo lavorando con i clienti e approcciando i clienti con la logica di essere piattaforma, quindi non più per singole verticalità, la creatività, il digitale, il media, la consulenza, la produzione e via dicendo, ma cercando di costruire sul cliente, anche perché i confini del marketing non sono più così netti, cioè cos'è marketing e comunicazione? Un influencer è marketing, è media, è comunicazione, quindi nella necessità di abbracciare il cliente, proprio stiamo lavorando mettendo insieme in maniera trasversale tutte le competenze e riuscendo a dare dei team totalmente multidisciplinari al cliente, abbattendo queste differenziazioni e costruendo anche efficienza. Efficienza che si traduce in una migliore soluzione per il cliente e un miglior risultato in termini, quello che dicevamo prima, ricaduta diretta sulle vendite. Questo vuol dire veramente cambiare anche un pochettino il DNA di quelli che sono stati i paradigmi del marketing, il nostro concetto veramente di essere piattaforma per il cliente. Ecco, a proposito di clienti, l'ultima domanda riguarda proprio le esigenze insomma che i vostri clienti manifestano in questo momento e come voi appunto già l'ho anticipato, state cercando di venire incontro con le vostre skills, le vostre peculiarità. Ma i nostri clienti oggi, proprio per questa pressione economica che hanno di risultato, ci chiedono di essere molto vicini a loro nel comprendere la situazione e c'è piena sintonia da questo punto di vista e fare in modo che ogni nostra attività sia correlata al loro business. Questo è quello che ci chiedono i clienti. Lavorare sulle loro vendite, lavorare sulla loro crescita, lavorare su mantenere quote di mercato, perché in un momento magari recessivo è più importante difendere le quote di mercato rispetto alla crescita in valore assoluto, di essere totalmente integrati nel loro business. Questa è la richiesta che hanno, che vale molto di più della migliore idea, del miglior piano possibile, ma di riuscire a essere ovviamente un guanto su quella che è la mano del cliente e sentirsi parte totalmente integrante. Proprio in questo, per esempio, cerchiamo di lavorare in maniera embedded col cliente, in house con loro, facendo team misti che lavorano, fortunatamente abbiamo sdoganato lo smart working, quindi ho la libertà di movimento nei nostri e nei loro uffici in maniera totalmente libera. Sì, sì, chiarissimo. È sintomatico quello che ha detto insomma sul fatto anche di voler innanzitutto difendere però la posizione, la fetta di mercato che hanno per poi eventualmente conquistarne di nuove. In questo momento le priorità insomma stanno un po' cambiando e voi ovviamente con le vostre soluzioni tentate innanzitutto di aiutare i vostri clienti in questo senso per poi pensare eventualmente anche a un'espansione futura quando le condizioni lo consentiranno. Speriamo presto. Dottor Di Fonzo, io la ringrazio moltissimo per essere intervenuto qui ad Agora Marketing per questa bella panoramica del mondo del marketing e della comunicazione che ha fatto insieme a noi. Grazie ancora per essere intervenuto qui alle fonti tv. Grazie, grazie a voi. Bene, allora si conclude dunque questa puntata di Agora Marketing. Io vi ricordo naturalmente potrete vederla all'interno del nostro palinsesto e poi on demand sul nostro canale YouTube e sul nostro sito www.elefonti.tv. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando a tutto il resto della programmazione. Grazie. 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 Grazie.